E' la tecnica che uso anch'io quella lì Sei sicuro? Ci manca un adesivo dall'altra parte però Vai Spampi che è libera! Vai! E' libera! Ecco adesso ho scopato giù tutto quel poco di terra che serviva a tenere e basta a posto Bella tecnica che avete o fra tutti precisi La tecnica raffinata Siamo partiti subito bene Sì sì Da Dio Era meglio che stavamo a letto No ma oggi sto dietro solo a Spampi eh Perché quando si incazza così poi basta tutta mattina è così adesso grida tutta mattina Guarda vedrai tutta mattina che grida adesso Chi arriva? Guarda Sono in buco da qua Prima che mi cadano basso davvero Chiarlattano! Quanto già arrivo a Chiarlattano? Chiarlattano! Questa è nuova eh Chiarlattano è nuova Adesso Chiarlattano 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 Io non so dove cazzo ho imparato Chiarlattano Che accesso di persona Chiarlattano 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 ma chi è che manca? Lele ma Lele c'è rimasta solo a moto è andato è andato a casa ah sei lì? fa il giro allora vieni su non vieni su è venuto su anche il charlatano è andato a casa allora andiamo via diretti boh andiamo già no arriviamo da lì